Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, ultimo appuntamento con i TOTS Liga testati, provati, sviscerati per voi Oggi ci andiamo a vedere gli ultimi 4 giocatori misti, diciamo, reparto offensivo, reparto difensivo, mezzo al campo, un po' di tutto Come al solito, breve recap statistico e poi passiamo subito con le clip che ho registrato all'interno della Weekend League di questo fine settimana Primo giocatore che ci aspetta è Jordi Alba Terzino sinistro, 1,70m, alto normale il work rate, piede sinistro, 3 di skill e 3 di piede debole E' già qua, insomma, un po' così e così, visto che sulla fascia, quantomeno fare una crocchetta, un tacco-tacco, insomma, è importante Quanto meno avere 4 di piede debole per evitare di sbagliare i passaggi sarebbe abbastanza importante per un terzino Oltre che parliamo di un giocatore con un body type particolare, di fatto in game sembra abbastanza tozzo e tarchiato Per cui la velocità che, appunto, vediamo sulla carta, secondo me è un parametro eccessivamente alto per quello che poi effettivamente si vede Ottimi passaggi, questo sì, infatti nelle sequenze che ho registrato un paio di passaggi ve li ho inseriti Palla al piede abbastanza rivedibile Però mi è piaciuto tanto in quelle che sono le chiusure, soprattutto in diagonale e soprattutto dove c'è da andare appunto a mettere il fisico davanti Perché avendo il barri centro-basso, 92 di equilibrio, alle volte riesce a spostare anche quelli che sono giocatori molto più fisici di lui Dato anche il 90 di aggressività Voto 7, 7, vi dico perché il prezzo è un po' alto e c'è per me Mendica inarrivabile Il top assoluto lì a sinistra Secondo me tra quelle che sono le carte poi disponibili è inferiore anche al Marcello che è uscito che è un 4-5 È un 5-4, scusatemi Tuttavia Marcello costa un pochino in più Ma è possibile ovviamente andare ad abbassare il prezzo con quelle che sono ovviamente le varie carte non scambiabili che abbiamo nel club I vari pick eccetera eccetera Quindi Alba lo piazzo diciamo al terzo posto in quella che è una classifica di difensori di Liga al momento Secondo giocatore testato è Carrasco Carrasco che ho equiparato a Fekir, come vi dicevo nel primo video 1,81m, alto-basso, piede destro 4-4 L'ho provato da esterno e mi è piaciuto tanto Perché faceva un po' i movimenti tra virgolette alla Rashford Soprattutto negli inserimenti sul lato corto dell'area di rigore Con il tiro a incrociare me l'ha fatto un paio di volte e mi ha colpito Insomma visto che vedivo dall'indolenza di Fekir che non vedevo minimamente in campo La velocità anche qua secondo me è un parametro un po' fake Visto che il giocatore in game è veramente grosso Cioè sembra più alto di quello che effettivamente è Lo speed boost c'è ma diciamo rivedibile sotto questo punto di vista Bene ma non benissimo Anche la finalizzazione 92 mi è capitato un paio di volte che davanti alla porta ne combinasse di cavolate Però rispetto ripeto al Fekir molto superiore Passaggi che invece ci sono L'agilità 99 sicuramente non la sentiamo Visto che è un giocatore di un 81 nonostante la poca forza Però comunque palla al piede non se la cava male Voto che gli diamo un 7,5 a Carrasco anche in relazione di un rapporto qualità prezzo che gli sorride Quindi se avete bisogno di un esterno sicuramente questo Carrasco può fare al caso vostro Esterno rigorosamente a destra per sfruttare il tiro a incrociare e per sfruttare per bene lo speed boost Perché lo speed boost con L1 se lo fate sul piede invertito vi rimane la palla sotto e non vi esce Quindi Carrasco promosso Promossissimo con dei vi dico voto 10 che non do mai Ma perché? Perché il rapporto qualità prezzo è veramente clamoroso Paragonabile a un terzino spostato Ok? Questo Quonde ha 2 di skill e 3 di piede debole Vabbè ma per un DC insomma non è un grossissimo problema E poi scottato all'esperienza di Varane vedere un Quonde che costa 180k Mangiare in testa un giocatore che costa 3 milioni insomma mi viene da dire 10 Velocissimo, reattivo nei micromovimenti avversari Ottimi passaggi, pulitissimo nei contrasti In tutti gli interventi si allunga bene anche nelle scivolate Si attacca bene all'uomo con l'86 di aggressività E' sempre sulla linea giusta E' possibile anche controllarlo manualmente per andare magari un po' più alto e un po' più aggressivo Tanta roba anche in quelli che sono gli interventi automatici e gli autoblock Sto Quonde mi ha veramente stupito Non pensavo, tra Quonde e Fofanà più o meno Secondo me Quonde potrebbe spuntarla Anche se Fofanà ha una maggiore fisicità Questo Quonde è veramente un bel 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 giocatore Considerando appunto anche che è francese E' possibile ibridarlo tranquillamente Una piacevolissima sorpresa Lucas Vasquez Anche qua piacevole sorpresa E vi dico perché 1,73m alto alto 4 i skill e 4 i debole Come vi avevo preannunciato nella preview Io l'ho testato sia a terzino che a esterno che a centrocampo E mi è piaciuto paradossalmente di più da terzino Vi dico perché Ottime diagonali Preciso nei contrasti Si sente la sua aggressività Si attacca all'uomo Ed è veramente un rompi marochness Non indifferente In fase difensiva Da esterno l'ho trovato poco incisivo sotto porta Un po' macchinoso nel controllo palla E un po' Non così scattante Soprattutto con lo speed boost Mentre mi è piaciuto tanto Anche da cc Ma esclusivamente nel rombo ovviamente Non lo andate a mettere in un cc 4-4-2 o 4-2-3-1 cdc Perché è piccolino E vi fa mancare un po' centimetri Che invece sapete Sono importanti in quel ruolo E sono determinanti Però ripeto Da terzino mi è piaciuto veramente tanto Una hidden gem Così come mi è piaciuto veramente tanto Anche da 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 mezz'ora nel rombo E andremo a vedere adesso Un po' di Di sequenze A partire da Jordi Alba Come al solito Vediamo le clip in base a come vi ho fatto vedere I giocatori Qui Un Subito un buonissimo recupero Guardate come tiene di fisico a Bruno Fernandez Ancora una volta Qui addirittura Vi fa poi sbattere la palla addosso Per andarsi a prendere il Il rinvio dal fondo Quindi avete visto come in realtà Per un attimo stava per perdere il pallone Però il suo bari centro-basso L'ha favorito su Bruno Fernandez Che invece è un giocatore più alto Qui vedete come porta Come porta il pallone Insomma non così agile Guardate qui un po' Macchinoso nei movimenti Quindi qui diciamo che non l'ho preferito Qua un buon filtrante Con il piede destro Però diciamo che non c'erano questi grandissimi impedimenti Però più che altro Per farvi vedere la corsa di Suadi Di Vasquez E poi l'assist per Dalglish All'interno dell'area di rigore Passiamo su Carrasco Subito con lo speed boost Vedete come già su questo primo La palla non è che abbia preso questo gran campo Si è rimasta un po' sotto Vediamo poi ancora qui con la suola La palla che viene apparecchiata per un altro speed boost E la possibilità a cui di Schoper di intervenire con un contrasto Il mio avversario si limita ad accompagnarmi Quindi io continuo a tenere il pallone Ma qui diciamo che lo speed boost di Carrasco Se visto non è proprio dei migliori Ecco sotto questo punto di vista Non prende benissimo campo Qua bella sequenza Guardate come Carrasco Si trovi sul lato alto dell'area di rigore E potrebbe rimanere indolente E io potrei anche probabilmente segnare con Suarez Invece aggredisce benissimo la profondità Avete visto con la mano davanti E' proprio quel movimento che si aziona di inserimento automatico Quindi benissimo il movimento di Carrasco Che poi ovviamente va a incrociare E segna il più facile dei gol a porta vuota Però sequenza successiva La stessa cosa accade di nuovo Perché guardate qui con Vasquez Ancora una volta Carrasco va a aggredire benissimo La profondità E scarica con questo tiro di prima in diagonale Ancora una volta Una bellissima giocata questa qui Da parte di Carrasco Vediamo invece Vasquez Come vi dicevo La prima diagonale perfetta da parte sua Guardate qui io non lo sto controllando E c'è questo Torres Che qualora prendesse palla in quella porzione di campo Diventerebbe molto pericoloso Molto pericoloso Invece ci arriva Vasquez A chiudere e a servire poi all'interno dell'area Varane E possiamo ripartire perfettamente Qui Neymar Si speedboosta in maniera Insomma classica col bridge Quonde va a chiudere perfettamente Con questo Con questo autoblock Ancora una volta Vediamo Nedved in possesso palla Palla verso Mbappé Quonde perfetto Nell'intervento incisivo Con la palla che vedete Si allontana effettivamente dai suoi piedi E va sul nostro compagno Non come faceva qualcosa maledetto di Varane Che la palla la faceva tornare sempre agli altri O non affondava mai bene il piede Quindi Già qui vedete le differenze Guardate qui con Quonde come sono uscito altissimo In questo caso Tiene botta a Ronaldo Perché sarebbe potuto inciampare Ronaldo Andare libero Invece poi Tiene ancora una volta la posizione Si piazza davanti Guardate anche col baricentro più basso a Ronaldo Vi fa perdere equilibrio E recupera benissimo il pallone Ancora una volta qui Sempre Cristiano Ronaldo Si butta palla in avanti Quonde con una semplicissima spallata E col suo baricentro più basso Si piazza davanti E recupera nuovamente il pallone Ancora una volta qui in campo aperto Contro Mbappé Precisissimo Nell'intervento E la palla che torna disponibile a lui Varane non l'ha fatto mai Ve lo giuro 180.000 Crediti di giocatore Contro 3 milioni Quindi un altro Intervento Precisissimo Questo qui Da parte di Quonde Qui invece quello che vi dicevo Su Lucas Vasquez Da esterno Poco clinical davanti la porta Vedete come qui Abbia Abbia sparato addosso al portiere E poi in realtà Dopo 12 secondi Si si è inventato una roba senza senso Quindi questo per farvi vedere Come sia in realtà incostante Davanti la porta Guardate Poi palla che arriva lì Boom Tiro a incrociare a casissimo di sinistro Che gli fa passare sotto le gambe Del portiere Ancora una volta Vedete davanti la porta Stavolta di destro Tiro che non vede neanche lo specchio In questo caso Ancora una volta incostante Qui ancora una volta Gran palla di De Jong Ancora una volta Tiro che sbatte In maniera un po' impietosa Contro Contro il portiere Avversario Però Qui un'ottima sequenza Perché grazie alla sua aggressività E grazie ai suoi ottimi parametri Di contrasto Guardate come recupera il pallone Guardate come il pallone Gli rimanga disponibile Serve dentro l'area di rigore Suarez Che ci regala il vantaggio Quindi questa sequenza qua Mi è piaciuta tanto Qui guardatelo addirittura In posizione di DC In maniera un po' esotica Perché non avevo cambiato il giocatore Infatti vedete la pausa Che avevo richiesto Ma guardate come va a chiudere bene E contrasta benissimo L'avversario Facendo scappare via il pallone Qui invece C'è un'altra dinamica da terzino Vedete come si va a piazzare Tra i due giocatori Avversari E intercetta in maniera automatica Qui un'altra bellissima giocata Perché qui Mbappé Viene dapprima Rallentato Con questo Pallone Che viene sporcato E poi Sul primo tiro E la ribattuta Guardate come rimane addosso E guardate come Semplicemente Sbilanciandolo Riusciamo a recuperare Ottimamente il pallone Qui ancora Un ottimo contrasto Veramente pulito Con palla che rimane disponibile A lui E può ripartire Quindi Vasquez Come potete vedere Secondo me Più incisivo In quelle che sono le zone di campo Tra virgolette Difensive Mi è piaciuto veramente tanto Sia da cc Che da terzino Da esterno Un po' meno Recappone Quindi A partire da Alba Gli abbiamo dato Diciamo Un set di stima Sette meno Sei e mezzo Va diciamo Abbiamo poi Carrasco Un set e mezzo Qualità prezzo Abbiamo Vasquez Un bellotto Secondo me Da terzino E cc E con de Voto 10 Spaziale Soprattutto Visto che sono scottato Da varano Lo ripeto Ma veramente colpito tanto Fatemi sapere ragazzi Che ne pensate nei commenti Se avete provato Questi giocatori Fatemi sapere Insomma Per i Toz E la Bundesliga Quali sono Se non vuoi Quelli più hypati Perché vi ricordo Questa settimana Toz di Bundesliga Come al solito Io vi ringrazio Per la visione In descrizione Tutte le info Per le live giornaliere Un salutone Un abbraccio Nari Beroschi Statemi bene Ciao